Una profondissima quiete, Franca Lancia e il ritorno alla figura tra De Chirico e Donghi. Con questa mostra, che dal 18 maggio è visitabile a Palazzo Buonacquisti di Assisi, la Fondazione Cari Perugia Arte del presidente Giuseppe De Pretis rendo omaggio ad uno dei figli migliori del panorama artistico Assisiate d'Umbro, Riccardo Franca Lancia, interprete di quella corrente artistica del Novecento definita dai critici d'arte il realismo magico. Presenti al Vernissage anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi e il professor Michele Dantini che insieme a Beatrice Abanzi hanno curato un percorso espositivo che porta per la prima volta in Umbria un progetto articolato che si sofferma sulle tappe artistiche ma anche umane degli autori che hanno caratterizzato la pittura italiana degli anni 20 e 30. Franca Lancia è uno dei meno conosciuti fra gli artisti della scuola romana ma è forse il più poetico, è un poeta della natura, è un poeta del paesaggio. La definizione di realismo magico che vale per alcuni artisti per lui è la natura stessa della sua opera all'interno di un percorso che inizia con valori plastici, cioè un movimento, una rivista, un gruppo di persone che guardando De Chirico che è il primo che si ribella alle avanguardie e ritorna alla pittura classica italiana decide di ricostruire la figurazione, riportare lo spazio nella dimensione che era stata di Beato Angelico, di Basaccio e allora per diverse posizioni, Rosai, Schiltian, Franca Lancia rappresentano questa figurazione con riferimenti a un passato che loro eleggono. Il passato di Franca Lancia è il passato di Giotto, Assisi, lui è nato da Assisi, è la città di Giotto e l'idea di ricostruzione della forma e della figurazione parte di lì e quindi è come se fosse un Giotto rinato con paesaggi meravigliosi, pieni di incanto e con un realismo magico che è appunto il realismo delle cose che sono entrate nel sogno uscendo dalla realtà. Siamo molto soddisfatti del risultato, di essere riusciti, questo era il progetto, dove era il proposito iniziale, di essere riusciti a inserire un artista del realismo umbro, del realismo magico in un contesto nazionale, restituendolo alle sue relazioni, ai suoi rapporti, ai suoi interlocutori che erano letterati, romani e di altre città e ai pittori che sono quelli esposti con Franca Lancia in mostra. Quindi mi sembra che siamo riusciti in maniera abbastanza convincente, per noi molto soddisfacente, a restituirgli il respiro, che è un respiro almeno nazionale. Franca Lancia da Assisi giunse a Roma nel 1913 portando con sé i silenzi e le suggestioni della natura umbra. Nelle sue opere ritroviamo tutto l'incanto e la magia che attraversa l'arte italiana in quel periodo. 130 le opere in mostra tra pitture e sculture, tra cui accanto a Franca Lancia non poteva mancare Giorgio De Chirico, Felice Casorati, Cagnaccio di San Pietro, Antonio Donghi, Francesco Trombadori, Mario ed Edita Broglio, il giovane Mario Mafai, Corrado Cagli, Mario Tozzi, Gisberto Ceracchini, Filippo De Pisis, Ottone Rosai, Renato Paresce, Fausto Pirandello, Giuseppe Capogrossi e Gianfilippo Usellini. La mostra resterà aperta fino al 4 novembre.